Sì, è un atto a due e uno, a due e tre, io largo la uranina, ho un atto a due e tre, io non lo voglio dire, forse è basso, buono, seconda posizione, l'oragna con il buon, sei, due, i giovani sono passati in questo momento dalla, Boldi, una con uno, è dimesso, Boldi e uno in prima posizione, poi abbiamo, l'altro è più toccato, quindi largo la uranina, ho un atto con il destro, 8, 3 risposte di sinistro, ragazzi riscontrate, 3 risposte di sinistro, 3, ralletto, dai che ho un petto ruolo più. 8, 8, 3, e quel lato devo aprire il pericolo. Terzo classificato per la Cannontieri-Urania – Mariani Diego, secondo classificato per la Voltri – Reinaldini – Beneretto e primo classificato per la camantieri Inneso Buffoni Iam